Da dietro! ... Sì, non è vero. Sono pronto! Padre, occhio! Dietro di te! Questo! Non posso... Non sono pronto! Un nemico ucciso! Io sta! Mancano solo due! Io sta! Oh 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 È durata a lungo Oh 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 Andiamo! Mi serve tempo! Non so ne vedo! Sì, sì. Guarda qui Signor Si Interessante Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501